Presidente, è diventato realtà il biodigestore 300 metri cubi di biometano standard immessi nella rete? Sì, è diventato realtà, è andato a regime e dovrà altro che migliorare a questo punto. Da i rifiuti nati qui si fa il gas che nasce qui, questo biometano che viene messo in rete e va a contribuire a quello che è il fabbisogno energetico nazionale. Sarebbe bello che tutti i territori avessero questi impianti a chilometro zero che consentono una vera economia circolare e che tra l'altro sono alimentati dai cascami termici del termovalorizzatore che brucia gli scarti. Quindi tutto quello che viene prodotto è un vantaggio puro. Presidente, quanto è stato complicato inserire questo biometano nella rete? Centria del gruppo S ha dato volentieri supporto a ESA Impianti, a questo grande impianto che abbiamo la fortuna di avere realizzato da Rezzo e che contribuisce all'autonomia energetica. Lo sforzo è modesta perché Centria è dotata di ampie strumentazioni tecnologiche che consentono di mettere questo biometano in favore di famiglie, imprese e anche autoveicoli a metano. Quindi un bel contributo all'autonomia energetica di questo territorio. Alla fine questo biometano si mischia con il metano naturale, quindi a tutti gli effetti viene prodotto dai rifiuti, ma è un metano di qualità? Chimicamente è un prodotto superiore a quello che viene venduto e commercializzato nel mondo. È un prodotto puro e estremamente bio, quindi migliora il prodotto che già corre dentro i nostri tubi. Presidente, il prossimo passo per l'economia circolare perché l'impianto di San Zeno mira tanto a avere questo scopo qua? Allora posso dire che proprio in questi giorni si sono aperte le buste per quelle che sono le gare del nuovo termovalorizzatore, quindi la 75.000, la cui costruzione è già in atto, va verso la sua conclusione nell'arco dei prossimi 12-24 mesi. Chiaramente siamo come tutti soggetti a quelle che sono le logiche di mercato dei fornitori, quindi ci auguriamo nell'arco del prossimo anno di poter attivare anche questa nuova linea di produzione.